Il vostro sogno è guidare una supercar ma non la potete comprare? Ebbene con Lamborghini esperienza questo inconveniente non da poco per molti può essere superato perché la gamma dei modelli Lamborghini è a disposizione. Basta andare sul sito www.lamborghini.com e cliccare esperienza è possibile prenotare i vari corsi di guida dalla pista al semplice turismo. Noi abbiamo voluto provare delle vetture a disposizione nell'ultimo incontro per toglierci la soddisfazione di vedere com'è al volante una supercar. Non prima però di aver fatto un salto nella storia Lamborghini con modelli come la mitica Contac cominciamo con la Huracan Spider 640 cavalli 214.000 euro 325 all'ora da 0 a 100 in 3,1 secondi. Partiamo per questo test e vediamo come va questa Lamborghini. Cominciamo a provare la gamma Lamborghini partendo dalla scoperta d'altronde la giornata è bella, il sole è fantastico e a questo punto vediamo un pochino come va la nostra Huracan e vogliamoci lo spettacolo. La cosa incredibile che stavamo andando a 50 all'ora è col cambio in modalità strada eravamo già in sesta marcia come dire che praticamente c'è la coppia di un diesel però ragazzi volete mettere la differenza con tutto quello che c'è attorno. Dimostrazione che questa vettura concettualmente per come stanno lavorando i Lamborghini è adatta a tutti gli usi insomma volendo esagerare potremmo anche andarci a fare la spesa. A 20 ad ora SVJ siamo al top di gamma 770 cavalli 350 km all'ora da 0 a 100 in 2,8 secondi. Si parte da 472.000 euro ma volete mettere la soddisfazione di avere per le mani questo mostro soltanto per il periodo in cui Lamborghini esperienza ve la concede. E siamo arrivati alla Ventador SVJ in quello che si può considerare un po' il top di gamma l'evoluzione più sportiva più spinta dalla gamma Lamborghini. Andiamo a vedere un pochino come si comporta su strada perché come vanno in pista l'abbiamo notato tutti ma il problema è su strada riuscirà a superare le prove. Io dico di sì. Bene ci siamo tolti lo sfizio di guidare su strada la Huracan Spider alla Ventador SVJ con Lamborghini esperienza questa e tante altre emozioni. Andate sul sito www.lamborghini.com per godervi quello che magari il vostro portafoglio non vi permette di comprare.